Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft Io sono DiegoSuper18 e oggi andremo nello spazio Eh si ragazzi, andremo verso l'infinito e oltre, quasi come Buzz Lightyear E dimostreremo a tutti questi villager che con soltanto un blocco di slime, un pistone appiccicoso e un osservatore Villager, ascoltami Riuscirò a volare fino al limite di Minecraft Capito? E tu non mi potrai bloccare Ok, allora, come si costruisce questa super navicella spaziale? Mettiamo un blocco di slime qua Un blocco di slime qui Uno, due, tre E poi lo mettiamo qua, quindi come vedete hanno distanza lì Adesso metto anche questi blocchi che non servono Mettiamo tre blocchi Poi ne mettiamo uno qua E uno qua Anche loro hanno tre blocchi Ok? Poi molto semplicemente li alziamo di uno Ovviamente fatto con lo slime E poi questo processo qui Ok? Capito? Qui ne abbiamo soltanto alzato e messo questa cosa così Perfetto Poi andiamo a mettere un osservatore Che ha questo puntino rosso che va verso il cielo Andiamo a mettere un pistone appiccicoso Due blocchi di slime Poi un blocco di slime qua Un blocco di slime qua E un blocco di slime qua E anche qua Ok? Ci siamo tutti? Vi faccio vedere Se non avete capito Un blocco di slime qui Uno qui Uno lì E uno qui Capito? Poi andiamo qua sotto Mettiamo... Questa è la parte più difficile L'osservatore con la freccina Verso il giù Vedete? In giù Guardate questa cosa qui Quel puntino rosso Che deve essere giù Poi mettiamo un pistone appiccicoso E un altro pistone appiccicoso Ok? Poi andiamo in questo punto qua E mettiamo un altro di questo E un altro di questi Come prima Sempre il puntino rosso in giù Poi mettiamo un pistone appiccicoso Un altro pistone appiccicoso Ed è fatta Adesso ragazzi Se vogliamo leggermente abbellirla Però Non lo farò Perché non mi piace Mettiamo un Pistone appiccicoso Pistone appiccicoso E un altro pistone appiccoso E un altro pistone appiccoso Grazie a tutti. Ok, ok, aspettate, se volete stopparlo... ...o addirittura di più perché ogni tanto non ne prendo, il pistone dirà... ...ah, c'è troppo peso in avanti, non posso più andare avanti. Ok? Dai, si è capito più o meno. E se volete farlo ripartire... ...aspettate che l'ho spaccato tutto. Ok, vabbè. Ok, l'ho spaccato. Il nuovo giocattolo di Natale. L'ho spaccato. Vabbè, lo rifacciamo. Se non avete capito, lo ricostruiamo. Così ve lo faccio vedere meglio. Rispiamo, blocco di slime. Uno, due, tre, blocco di slime. Ora lo faccio anche più veloce. Blocco di slime, blocco di slime, blocco di slime. Così. Così, così. Osservatore. Boom, boom, boom. Aiuto. Boom, boom. Boom, boom. Ok. Osservatore sempre come abbiamo messo prima. Quindi così. Ho anche il pistone. E anche i due osservatori qua, così. Pistone. Pistone. Oh, no. Io intanto provo a costruirlo uno sotto, così vediamo se, secondo me, si spacca. Però non ne sono sicurissimo. Quindi devo andare perfettamente. Ok, fammi vedere il primo blocco. Ok. Ok, qua. Ok. Non toccate niente. E cadete i miei feritti. Ok, per forza, per forza. Qua magari rimettiamo dei blocchi di terra uguale. Vediamo che cosa succede se si scoppiano. Secondo me succede un casino e si spacca tutto. Però vabbè. Noi ci proviamo per la scienza. Boom. Ormai penso che anche voi lo sappiate costruire a memoria. Perché non è veramente difficile costruirlo. Così, così. Guardate l'altra intanto che è volata in altissimo. Vabbè. Sarà irrecuperabile. Non si vede più, ragazzi. Vai, distruggilo. Cioè, da sotto non si vede più. Mi sa che è arrivato al limite massimo di altezza di Minecraft. Andiamo. Cioè, no. No, siamo ancora tanto prima. Tanto, c'è. Adesso siamo a 130. Quindi pensate un po'. Vabbè, quello lo mandiamo lasciare su. E vediamo che cosa succederà. Con questo fantastico scontro. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ecco. Fermo, 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 fermo. Prima che si scontra, scrivetemi sotto il link su tutto lo bisogno. Allora, no! Secondo me si spacca. Oppure fa qualcuno l'altro? No, non si incassano. Non si spacca. Vabbè, l'altro mi sa che arriverà tra poco al limite di altezza di Minecraft. Questo si è spaccato tutto. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Da me è tutto. Ci vediamo domani che nel prossimo video. Ciao! Ciao!